Buongiorno a tutti ragazzi, ho una cattiva notizia. Ho una cattiva notizia molto, è morto Harold ieri, è raggiunta la sua ora, adesso stiamo facendo il funerale, vuoi sapere il video raga? Eccoci qua raga, questa era la sua casa. Guardatelo. E qui lo vedete questa è la sua testa, morto già. Ora cantiamo la sua canzone. La sua canzone è la sua testa, morto già è la sua testa, morto già è la sua testa, morto già è la sua testa. La sua canzone è la sua testa, morto già è la sua testa, morto già è la sua testa, morto già è la sua testa. Ad esempio Oh Edelme, my frog Edelme, my friend Oh Edelme, my frog Oh my frog Edelme, dimme Oh Edelme, my friend And my frog, King Harod, in your sleep forever, are you frog? My frog, my frog, on his animal, my frog, in my frog's house, a mortal, in the name of my frog. Oh, funeral frog, it is there, oh, by my frog, God. Oh, my frog, is he my frog? How see me, my frog, King Harod, I got. Oh, my frog, my frog, is he my frog, is he my frog, is he my frog? Beh, ragazzi, il funerale è finito qui e il video non credo che neanche a me vi è piaciuto. Non mettete mi piace, non lo mettete perché questo era un video per dimostrare quando si vuole bene una persona o un animale quando è morto e uno ci tiene. Iscrivetevi, seguitemi su Instagram e mi raccomando, non mettete nessun like in questo video. Poi ho qualche bisogno di ciò, ma niente like qui in questo video, d'accordo? Ci vediamo in un prossimo video. Bella rega! Ciao, ragazzi!